Buonasera e bentrovati con Sabato Sport. Iniziata la giornata numero 24 del campionato di Serie C. Ecco le partite che sono disputate nel pomeriggio. Il Gubbio, anzi ieri sera ha battuto 3-1 il Pesaro in trasferta e oggi la Juventus-Neggen ha superato l'Ancona 3-2. Questo il resto della giornata. Perugia-Rimini, Cesena-Fermana, Pescara-Pinetto. Tutte le partite sono in corso di svolgimento. Poi domani Torres-Sersti Levante, Canarese-Olbia, Arezzo-Virtus-Entella, Lucchese-Spal-Re-Canatese-Pontedera. Vigilia di Arezzo-Virtus-Entella. La squadra Ligure è stata radicalmente cambiata nel mercato d'inverno. Indiani non si fida. Indiani arriva alla Virtus-Entella, un avversario sicuramente scorbutico. Indubbiamente scorbutico, difficile, ma come tutti gli altri abbiamo visto domani all'Olbia. Con l'Olbia forse l'Arezzo ha avuto la peggiore giornata dell'anno? Ma si dice male. Il primo tempo sì, il primo tempo potevamo fare di più. Poi dopo che ho subito abbiamo fatto il possibile. Però indubbiamente è chiaro, non è stata una giornata delle migliori. Lei ha un'Ecuba in più o un'Ori in meno? Per ora ho un'Ori in meno perché l'Ecuba praticamente l'ho conosciuto ieri sera. Per ora c'è un'Ori in meno. Buona notizia di torno di Pattarello. Sì, indubbiamente ha scontato la squalifica e la cosa forse più importante ha recuperato da piccoli problemi che aveva. Un dato oggettivo che la mancanza della spinta della curva, domani la squadra dovrà dare quel qualcosa in più. Indubbiamente, è la prima volta in casa e sicuramente ci viene a mancare qualcosa di importante. Ci sarà una mossa sorpresa di Indiani? Mossa sorpresa. Tutte le volte cerchiamo di vedere come è andata la settimana, di mettere in campo quella. Noi crediamo sia la formazione iniziale migliore perché non dimentichiamoci mai che il calcio di cinque cambi è molto cambiato. Facciamo tutti l'errore di dire inizia quelli, inizia quelli. Molte sono molto più importanti che lì entra. Un duro comunicato dei gruppi della curva Minghelli, la replica della società Maranto arriva a una coda polemica dopo i fatti di Ancona e la decisione del giudice che penalizza i tifosi. Alla vigilia della partita con la Virtus Centella è scoppiata una polemica di cui avremmo voluto volentieri fatto a meno. Curva sud da una parte e società dall'altra. Due visioni diverse di una situazione che penalizza tutti e che priva del sostegno necessario alla squadra. Un vecchio adagio dice che il pubblico è il dodicesimo giocatore in campo. Ad Arezzo lo è, come sottolineò Piero Baragliale dopo partita con il Gubbio. Purtroppo la decisione del giudice sportivo per il petardo di Ancona non ha fatto sconti. Per i tifosi la società Maranto non ha fatto nulla per poter dare una mano proprio alle esigenze dei tifosi, senza aggirare la legge ma trovando altre soluzioni proprio ad utile sono riuscite a proporre e a mettere in atto. E i fatti della partita con il Milan hanno avuto un rilievo decisamente diverso rispetto al bombone di Ancona. Da parte sua il sodalizio Maranto in una nota critica la decisione del giudice ma sostanzialmente ne prende atto visto che ci sono normative che non permettono di invertire quella sentenza. Morale ci sono delle leggi e vanno rispettate. Dura l'ex, sede l'ex diceva il diritto romano ma per la Curva Sud i fatti non stanno così. Alla fine chi paga sono i 1100 abbonati che hanno perso il diritto di stare vicini alla loro squadra a causa di un super petardo che ha fatto del male soprattutto a loro. Morale i tifosi della Curva chiederanno che nella prossima stagione verranno messe delle clausole apposite per quanto riguarda chi sottoscrive gli abbonamenti. E in serata è arrivata anche la nota di Orgoglio Maranto che critica l'atteggiamento del socio di maggioranza. E parliamo adesso della serie di eccole partite in programma. Domani ne leggiamo insieme. Mr. Rigucci, proprio lei che cosa sia il derby tra Montevarchi e San Giovannese non ho bisogno di spiegare. No, lo conosco bene, lo conosco bene, sentito, bello da vivere anche se sono nella sponda sangiovannese so cosa vuol dire i derby sia per San Giovanni che per Montevarchi. Per noi vuol dire tanto, è una partita importante, ci stiamo preparando il meglio possibile per farci trovare ponti alla battaglia perché insomma, come saranno poi tutte le altre partite, logicamente non finirà il campionato qualunque sia il risultato in caso positivo o in caso negativo, logico, meglio positivo, però anche se fosse una cosa non positiva per noi il campionato non finisce, anzi noi abbiamo un obiettivo forte che è quello di arrivare al 5 maggio salvi quindi questo è l'obiettivo della società e della squadra e logico per la società, per noi e per i tifosi vincere un derby o portarlo a casa dopo tre derby persi sarebbe bellissimo quindi vediamo, noi stiamo lavorando per cercare di fare il meglio possibile e cercare di dare questa gioia a noi stessi, ai tifosi e anche alla società. A proposito di vincere, l'ho visto lo striscione fuori dallo stadio? No, 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 non l'ho fatto. C'è scritto un vincere grandissimo, glielo dico io. Eh, beh va bene, a noi sta il compito di dare tutto, di non lasciare niente ai casi e di uscire tutti quegli giocheranno sudati e con la maglia imbrattata come si diceva un tempo perché l'importante è dare tutto, poi il risultato stiamo a vedere quale sarà. Voi come ci arrivate? No, noi ci arriviamo bene, noi ci arriviamo bene perché veniamo da 5 risultati utili consecutivi la squadra sta bene, è cresciuta e quindi a noi ci fa ben sperare. È logico, affrontiamo una squadra forte perché da gennaio hanno cambiato tanto e sono rinforzati tanto e stanno facendo benissimo anche loro quindi sarà una partita, come ho detto prima a tu colleghi, il derby è una partita a sé, no? Non è mai una partita in linea con le altre, quindi sono partite particolari, strane vissute tanto di entusiasmo, di passione, di voglia e vediamo come andrà a finire. Di sicuro noi ce la metteremo tutta, questo è poco, ma sicuro. E vediamo allora la risposta di Calori, anche lui un ex. È la partita più sentita e a Montevarchi hanno preparato il derby con dovizia di particolari. Per Calori sarà un incontro diverso dagli altri, ma lo scoglio di essere un ex lo ha superato nell'andata. I derby sono sempre partite speciali, cambia poco, è sempre una partita importante, decisiva sicuramente per fare poi un girone di ritorno diverso per entrambe le squadre. Siamo in una posizione classifica difficile, quindi dobbiamo entrambe liberarci da quelle posizioni là. La squadra nelle ultime uscite ha dato la sensazione di aver trovato il giusto assetto. L'equilibrio nel calcio e nello sport viene sempre tolto ogni domenica, è normale che gli equilibri dobbiamo sapere ricrearceli ogni domenica in base agli avversari, in base alle situazioni, in base ai momenti della partita, dobbiamo essere bravi in quel modo. Ma anche la San Giovannese con la cura Rigucci sembra aver avuto dei benefici e non è da escludere che il tecnico fiorentino, ex degli anni ruggenti, serbi qualche sorpresa. Le sorprese sono sempre dietro l'angolo, sicuramente loro conoscono noi, noi conosciamo loro, recupereranno anche Massimiliano Benucci, che sicuramente è un'arma in più. Hanno tante armi, anche e soprattutto nei giovani, noi abbiamo le nostre, però le sorprese fanno parte del gioco. Sarà una partita speciale, serve buon senso, soprattutto da parte dei tifosi, i fatti di Cenaia possono dare effetti negativi. Facciano colore, perché il colore non deve mai mancare negli stadi, ci deve essere gli sfottori, ci deve essere tutto quello che ci deve essere, come è giusto che sia, però senza fare lanci di petardi o quant'altro, e poi possono rimettere, come è successo poi domenica scorsa, di fare partite a porte chiuse, noi purtroppo viviamo sempre il terrore che possa risuccedere, quindi non deve risuccedere, ma penso che i tifosi l'abbiano capito questo. E dicevamo il derby degli ex, uno di questi è proprio Luca Lischi. Quando passò dall'altra parte dell'Arno, la notizia fece rumore, un po' come è successo a Benucci quest'anno, ma a parte invertite. Per Luca Lischi tornare al Fedini da avversario non sarà certo una partita come le altre. Diciamo che ci sono tornato un po' di volte come avversario San Giovanni, l'effetto è sempre il solito, comunque c'è un palcoscenico molto importante, il derby del Valdarno, una cornice di pubblico eccezionale, farà sempre il suo effetto, proprio perché è una partita particolare, è un derby, però ecco, vale tre punti e dobbiamo vincere. Il capitano è adesso anche la chioccia per tanti giovani, un punto di riferimento riconosciuto, non c'è dubbio che alla luce della sua esperienza confermi che i progressi in casa Rossoglu ci siano. Sì, di sicuro con gli acquisti che abbiamo fatto e con la consapevolezza che abbiamo preso, abbiamo capito che siamo una squadra importante e che possiamo raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo. Che derby si aspetta Lischi, visto che anche Marzocco sembra avere una buona condizione e può contare su un ex temibile come Benucci? Sicuramente Massi è un giocatore importante, un giocatore tecnico, un giocatore che ha la giocata per cambiare la partita. Quello che temiamo in realtà siamo noi stessi, perché tutto poi dipende da noi, dal nostro approccio, dal nostro modo di interpretare appunto questa gara. L'avversario è sicuramente temibile e soprattutto in un derby non si sa mai poi come andrà a finire. Alla guida del Gavorano Marco Bonura ha vinto la Coppa Italia e è arrivato due volte al play-off. Domani ci sarà l'avversario con il suo Sansepolcro. Con Marco Bonura la vigilia della partita contro il Follonica Gavorano, una squadra molto forte e tosta. Il Sansepolcro è andata a Parigiò per 0-0 qui alla Buitoni. Un piccolo vantaggio forse perché Marco Bonura conosce molto bene questa squadra essendo un ex. Sì, sì, vado lì domani da ex, però ecco una squadra che conosco diciamo gran parte dei giocatori, alcuni sono nuovi, però diciamo che affrontiamo una squadra come detto te forte, attrezzata, che sta facendo bene e che si giocherà il campionato fino alla fine, penso. Quindi sarà una partita difficile come sono state le altre che abbiamo affrontato fino adesso, però noi in questo momento devo dire che stiamo anche bene fisicamente e mentalmente, andremo a cercare di fare risultato positivo anche se sappiamo che è difficile. Rientro della Spoletina al quale hanno tolto un turno di squalifica, ma non per Del Siena, ma anche il Follonica Gavorano ha assenze importanti. Occupero due giocatori nel reparto arretrato. Beh, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, allora andiamo a vedere le partite in programma dell'Eccellenza, oggi ci sono stati due anticipi, il Siena è andato a vincere con l'asta Tavernedà, ovviamente il Terranola Traiana è stato battuto 1-0 dalla Fortis, Colligiana Rufina, Pontasieve Foiano, Rondinella Castiglionese, Scandicci, Valentino Mazzola, Signa, Baldaccio Bruni e Siena Olunghese, la Strigiana sono le partite in programma domani, riposa il Firenze Ovest. Parliamo di calcio femminile trasferta in Romagna per la CF Arezzo che va a cercare fortuna in quel di Ravenna. Si comincia il nuovo girone di ritorno con la prima squadra che abbiamo affrontato all'inizio del campionato, il Ravenna, che sicuramente era molto attiva come società nell'inverno. Abbiamo preso queste sei nuove giocattrici e quindi abbiamo visto anche altre partite come per esempio il Parma che ha vinto solo 1-0 lì. La settimana scorsa c'era una partita molto tosta, Tavagnacco contro loro 2-2, quindi è una squadra per me che non vuole smettere mai, hanno questa mentalità di non mollare mai. E' un campo stretto, un campo che è veramente particolare, quindi noi dobbiamo essere attenti, abbiamo visto i nostri errori in questi due contrapiedi che abbiamo perso i due gol contro il Bologna allo stadio. Sì, abbiamo lavorato sui nostri errori e siamo pronti per questa gara. E dopo le parole di mister Mike Heracleus, vediamo il servizio relativo alla trasferta dell'Amena Scolabasca e Terezzo a Lucca. Mancano tre giornate alla fine del regular season, in casa Sbala vittoria della scorsa settimana contro il Serravalli e Scrivia. Ha ridato il sorriso tra il bianco a Varanto, la partita di Lucca però ha un alto coefficiente di difficoltà. Grazie non l'altro perché la formazione rossonera, un potenziale offensivo di primo ordine, ancora non ha perso la speranza di andare ai play-off. Togli e compagni sono chiamati a fare l'ultimo sforzo e hanno la possibilità di centrare il traguardo della salvezza. Nell'ultima partita contro i Liguri, dopo una iniziale tensione la squadra si è sciolta, ma certe pause sono da evitare, visto che a questo punto della stagione i dettagli fanno la differenza. Per la cronaca all'andata la formazione lucchese espugnò a Rezzo prendendosi una rivincita rispetto ai play-off dello scorso campionato. E chiudiamo con un servizio relativo ad un incontro di tennis tavolo che è partito oggi a San Giovanni Valdarno. Sabato 3 e domenica 4 febbraio nella palestra del palazzetto di Via Genova si volgerà il torneo Open di tennis tavolo a San Giovanni Valdarno organizzato dall'associazione sportiva delettantistica Tennis Tavolo Valdarno con il patrocinio del comune. Il tennis tavolo ha una grande tradizione nella vallata. Negli anni questa società è riuscita veramente a far arrivare a livello nazionale figure importanti. Attualmente è proprio il figlio di Vivaldo Nannone, il CT del tennis tavolo della nazionale italiana. Quindi noi siamo molto orgogliosi, abbiamo supportato e patrocinato l'evento. Qual è lo scopo del torneo? Far crescere la base dove sono tutti coloro che iniziano, quelli che hanno già giocato ma che non sono bravi, restano in fondo. E quelli nuovi che arriveranno perché noi si parte già con un bambino di 7-8 anni, per noi può già cominciare. Anzi è l'età migliore per sviluppare la coordinazione e anche cominciare a concentrarsi su quello che deve fare, che poi serve anche per la scuola, perché un bambino che è attento nella scuola lo è attento anche a giocare. Se poi ha passione si riesce a fare il doppio lavoro. Si tratta di una gara toscana aperta anche ad atleti e ad atlete provenienti dalle regioni limitrofe. Le sfide nelle due giornate interessano gli sportivi che vanno dalla sesta alla terza categoria. Si inizia la mattina alle 9 per poi riprendere nel pomeriggio dalle 14.30. È tutto per lo sport, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo gli appuntamenti di domani alle 20.48. ci sarà Teletrune a Football Live con collegamenti in diretta dallo stadio comunale di Arezzo per il post partita di Arezzo Virtusentella, a seguire la parte di domenica sport relativa a tutto quello che lo riguarda la Serie C. È tutto, buonasera. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.